Avevo necessità di acquistare limoni per condire le cozze. Questa la giustificazione di fronte al giudice di un 39enne, evaso dagli arresti domiciliari. Era il primo pomeriggio di ieri, quando i carabinieri di Marotta hanno suonato al campanello della sua abitazione per procedere al controllo. L'uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per un procedimento penale pendente al Tribunale di Napoli, in quanto indagato per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo vari tentativi, i militari hanno desistito perché era ormai chiaro che l'uomo non fosse presente. Difatti, approfittando del flusso di turisti presenti in località balneare a Torrette di Fano, il 39enne si era mescolato alla folla per allontanarsi da casa. Immediate le ricerche dei carabinieri che dopo alcune ore lo hanno rintracciato in mezzo alle bancarelle e ai locali del lungomare. Tratto in arresto, in flagranza di reato per evasione, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha disposto il giudizio direttissimo. Riconosciuto il responsabile del reato di evasione ha patteggiato una condanna a otto mesi di reclusione, con ripristino della misura degli arresti domiciliari.